Buongiorno amici Alessandro Aventura, video velocissimo da Viareggio Italia, sto completando il mio tour in Italia, rientro a Dubai probabilmente il 19, il 20 settembre, dopo sono fisso là per sei mesi. Sono arrivati un paio di messaggi di richiesta, informazioni su Marjan Island, quindi l'isolotto che c'è a Ras al-Kaiman e richieste di novità sul casino a Dubai. Allora, qual è la situazione casino, giochi d'azzardo negli UAE? Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda i casino specificatamente su Dubai e Abu Dhabi, anche se vi posso garantire che arriveranno prima o poi. Per il momento rimane fermo e confermato solo Ras al-Kaiman, quindi l'emirato di Ras al-Kaiman e in particolar modo il casino di Wayne Resort, la cui costruzione è partita nell'isolotto di Marjan Island. Vi allego un link sotto nei commenti, un piccolo short che ho fatto un anno e mezzo fa dove ero con mia moglie e stavamo vendendo un terreno a Marjan Island ad un cinese. Ripeto, io ci siamo stato almeno 50 volte, quindi la conosco molto bene. Vi allego adesso un paio di video, senza commentarli, tanto non serve, per farvi capire dov'è Marjan Island, cosa sta succedendo e tutti i progetti che sono stati lanciati. Perché adesso è un'area veramente, è un cantiere aperto e quindi ci sono veramente tanti tanti progetti brandizzati, non brandizzati, c'è EMAR per esempio, c'è ALDAR, c'è NOBU, c'è Niki Beach, Marriott. I prezzi di partenza non sono bassi perché già prezzano l'apertura del casino. Volete sapere qual è secondo me l'investimento migliore lì? Abbiamo fatto delle analisi qual è il progetto migliore come investimento, attenzione, in rapporto qualità, prezzo e sicurezza. Marjan is the master developer for the government of Ras al-Khayma. We invest in master planning and infrastructure, then we sell plots to third party investors, developers, institutional funds, listed companies where they build their own real estate model. We are mandated to develop waterfront destination, urban communities and mountain development as well. Our iconic project is Al Marjan Island. It is four islands connected together with the network of infrastructure all the way 4.5 deep into the Arabian Gulf, covering an area of around 2.7 million square meter. We are targeting 8,000 hotel keys, 12,000 residential units, around 600 holiday homes and villas. 30% of investors at Al Marjan Island are publicly listed companies in ADX, DFM and Nasdaq. Thank you. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.